Sono le turni di scienze, ma che dico? Senti te, ho capito, prego, accomodati. Qua ti stavo mangiando. Stavo lecce tu, la verità, eh? Venite qua. E che ne so, volete un papà? No, no. E volete un annuolo? E trovate un'annuola papà? E che ne so, una brioche, quella la, quella che... Un'annuola papà? Sì, sì. E ti chiami di Pasqua. Parato al menù! Ehi, caro abrio! E nemmeno l'aprio, non lo so, mi sono inzzamato. Un'aprioza. Un salanetto. E aveva capito il saponante, che schifo! E' proprio un saponante, è troppo bello, mo'. Ma è vero che tu stai inzzamato, no. Sentite, non volete nemmeno un aprioche. No, no, no. Ma se non è un aprioche, è l'altro, non c'entravo. Perché faci dei aprioche? E che faccio un patottiere. Oh, faccio un patottiere, faccio un patottiere. Sì, mamma mia. E' un caffè? No, no.